Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo dodicesimo episodio della Soulink insieme al DROCHAT. Lo chiamavano paparotti, cazzo. Allora, buongiorno, buongiorno ragazzi. Buonasera, per rimanere in tema di YouTube, internet e web. Bentornati dopo due mesi. Ah no, aspetta. No, non si dice. Due giorni, due giorni. Luke, cosa facciamo in questo episodio? Dopo questo, sì, direi che dopo questo rompimento di timpani. Termine specifico medico, mamma mia. Raga, dobbiamo andare un po' avanti. Dopo ho avuto una coppia, ovvero Top 5 e Scorpio, mi pare. Sì, mi hanno mandato Latias, però va bene, Top 5 e Scorpio, Top 5 e Scorpio. Allora, io lo sto facendo addosso qua, perché ci sono due gemelline che mi malmegliano, ma non posso evitarle. No, no, oddio! Ho preso Latias con puro gelo, mi sento potente. Ah, ho cattuato Latias. Sì, cioè, certo, Luke, come fai pure tra. Le hack, signori. Le hack. Mettevi il C, mettevi il C e poi ti diciamo di toglierlo. Ciao, Gio. Questo è un riferimento. Vabbè, basta. Questo è un riferimento da prima. Ciao, Gio, ti vogliamo bene. Sarà un bug. C'è un'altra citazione. Sarà un bug, po'. Oh, Luke, c'è Pikachu, c'è il tuo amico. Eh, io c'ho pure la pre-evoluzione, quindi facciamo la catena ultima, oggi non siete contenti? Io sì, sono molto contento, raga. Una bacca stagna, grazie esistenza. Allora, io ho fatto... Questo qua è l'effetto di Pikachu, quindi... È l'effetto di Pikachu, che c'è un Glyscore, giustamente. Sì, vai di dislike, sicuro. Sicuro, fisso, fisso. 10, 12 dislike, già ce li vedo. Luke, cos'era sto urletto? Mi ha inquietato. Eh, mi ha fatto psicoslancio su Fatimo. Fatimo è morto. Fatimo con chi era legato? Fatimo è morto, raga. Era legato... Mi viene da piangere, ragazzi. Koga, vabbè, c'è non sta, non dico più niente. Va bene. È impossibile. Era legato con Koga. Ciao, Koga, è stato un piacere anche per me. Raga, che devo dire? Mi muovo, mi fanno le mosse super efficaci, vabbè, ok. Raga, un Luke distrutto. Lasciate un like di sostegno. Oh, Luke, quanti like lo c'hiamo dopo che è morto sto Pokémon? Giustamente. Allora, era Fatimo, quindi praticamente una divinità, era quasi... Insomma, quasi... Era il Pokémon più blasfemo che Luke abbia mai avuto in team. Esatto, probabilmente mi riperà direttamente il dissing, la munizione della chiesa. Scomunica. Esatto, allora, quindi ci lasciamo tipo 400. Beh, perfetto, va bene. 400 come offerta alla Madonna di Fatima, mi sembra giusto. Ok, Luke, io sto andando avanti comunque. Eh, io mi sa che torno indietro, che mi hanno avvelenato. Quindi, raga, torno a casa e poi vi faccio il percorso all'opposto. Perfetto, raga. Mentre che Luke torna a casa, io sparo un oltraggio con change che li apro tutti. Zio, mi sono... Ok. Cioè, il mio change è bellissimo. Ho fatto danza spada più oltraggio. Sto svipando praticamente una... Una tipa. Cioè, perfetto. Sì, che hai detto così suona male. Sì, però ci abbiamo capito. Eh, eh, eppure, eppure suonerà male. Eppure è la triste verità. Eppure, la realtà era... La realtà dei fatti... Eh, ma vaffanculo, non c'ho nemmeno una bacca a chi. Ah, giù. Comunque tolgo, vabbè, tolgo mai Mac, tu toglierai poi il tuo Venomoff, quindi... Non ho capito un cazzo. Non ho capito una parola, scusa. Tu togli poi Venomoff, io tolgo Mac, visto che è morto, per forza. Eh sì, per forza. Quindi, bye bye. Ciao. Per forza. Rip Fatimo, giusto? Eh, vabbè, andrai in un posto migliore, dai. Allora, rispetto a questa serie, difficilmente si trova un posto peggiore, perché stiamo facendo schifo al cazzo. Ma no, dai, secondo me no. Oddio! Secondo pure gelo a segno, Luke, madonna. C'è bomber di razza, ragazzi. Cioè, parliamone, parliamone un attimo. Tu, Luke, ora dove sei? Eh, sto tornando indietro, sono nel passaggio, come tra percorso e percorso, mi sto riaffacciando. Ok, ma sì, nel mentre che hai detto sta cosa qua, sei già a Flemminia, comunque, già nel senso. No, sì, probabile, giù, probabile. Strumento! Ma che palle, Luke, baccalga! Che palle! Vabbè, dai, ci sta. Non è così brutto, secondo me, la poteva andare peggio. Ok, io ho messo la roccianima nel pozzo, nel mentre, l'orio di cattiveria. Ah, ma tu hai la roccianima, scusa? A caso? Sì, penso di averla trovata da qualche parte, non lo so, non mi ricordo. L'uomo che possedeva le roccianime. Comunque, Luke, la famosa baccalga, perché tipo, quando mangiano, c'è palchia, che chiede a Ghiratina di cosa sa, e Ghiratina fa D-Alg. Ah, vabbè, dai, spero sia buono, almeno. Eh sì, sicuramente, buonissimo D-Alg. Raga, nei commenti fateci sapere che sapore potrebbe avere un ipotetico D-Alg arrosto. Se siete ancora vivi dopo questo. Se siete dall'oltre tomba, mandatemi qualche segnale. Gallade, cazzo. Uh, ma anch'io c'ho la roccianima, quindi la posso incastrare anch'io. Eh, ma secondo me l'abbiamo, secondo me non era... E allora devi farti la puttanata di scendere, salire, scendere, un po' se ne scenderne e salire. Città. Sento dovevo trovare fango pece, quindi ragazzi proprio fango. Perfetto, allora... Gio, qua ci si possono fare catture, tipo nella torre quella degli spessi. Sì, 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 anzi no, dobbiamo farci le catture. Ma è un percorso diverso? In realtà non è un percorso diverso, però... Però, senti, ci siamo palesemente un altro luogo, quindi noi possiamo farlo lo stesso. Sì, no, la torre è un... C'è un nome, sta torre, scusami, eh. No, perché io sono entrato e non appare nessun percorso, quindi... Ma io, ma sì, ma secondo me no, no, secondo me si può fare la cattura. Chiama? Sì, dai, facciamo lo stesso. Vai, falla, inizia tu, inizia tu che io sto girovagando per il mondo. La mia sfera lancerò. Eh, tutti i Pokemon catturerò. E da ogni Fabiat così catturerò. Eh, ma non trovo nessuno, raga, ci sono buggati. Ma cosa, è un altro bug come quello di Joe? Cioè, no, c'è, ok. Ok, io sto andando a prendere strumenti a caso. Super pozzoni, tra l'altro, Luke, ho trovato la MT. Cioè, raga, ho trovato la MT calcio in volo. Ora ditemi se in una Naslock uno può avere le palle di usare il calcio in volo. Cioè, oh. Joe, ho trovato un Pokemon molto interessante, considerando che le bollizioni sono random. 29 di statistiche, nel caso. Ho trovato Eevee. Uh! Eh, ma ce l'hai una pietra. Qualcosa mi pare, tipo una pietra idrica ce l'ho, nello zaino. Eh, potresti fare subito l'evoluzione, volendo. Bella, lì. Raga, la magia. Ma nel mentre sto affrontando Tim e Vodafone. No, ho capito. Ho detto, ti ho detto, c'è Tia. Tia, sto affrontando proprio Tia. È proprio lui, Luke. Che per spiegarci a quest'uomo. Allora, vediamo se riesco a seccarli sul post. Cosa non ci staranno? Ah, beh, è vero, cazzo Eevee, c'è un tasso di cattura di Cristo. Eevee, Eevee assorbe la luce, ragazzi. Che cosa Eevee, non so. Attenzione, la nuova forma. La nuova forma Eevee solgaleo, proprio. Attenzione. No, è il tipo di luce che sta facendo ovviamente il suo reboot dopo anni di teorie dei fani, ragazzi. Oh, ho trovato anche io il Pokemon. Attenzione, e? Chi è? Eevee. Eh, Probobas. Bel, cos'è? Ma, lo chiamerai Mario, sicuramente. Non abbiamo quei baffi. Lo chiamo... Non so, potrei chiamarlo, non lo so. Eh, ma è femmina. Non posso chiamarlo Maria, dopo la Madonna di Fatima. Maria. Ma non posso, dopo la Madonna di Fatima. Ma, ma è vero. Non possiamo fare ste blasfemie, Luke. Allora, aspetta. Ci arriva veramente la chiesa, secondo me. Allora, io ho, 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 30 Pokéball. Cioè, se non lo prendo, è, ma il problema è, è assurdo. È, è assurdo epico. Allora, e io, Kiwi? Eh, è abbastanza un osso duro, la cattura. Ecco, perché dato ho solamente le Pokéball. Oddio, io ho preso Probo Pass, sto male. Così. Lo chiamo Telepass. Lo ho preso anch'io, Ivi. Oh, bella. Attenzione. Lo ho preso anch'io. Dub. Soulink, Pokémon evoluzione. Mamma mia. Evolvimelo, ti prego. Eh, se riesco a trovare un soprannome che sia decente, che non faccia ridere, insomma. Senti, dai, io, io provo Pass, lo sto chiamando Telepass, Liu, che secondo me non puoi superarmi. No, sul serio. Ti giuro, sì, assolutamente. Ma è un soprannome bellissimo. Raga, lasciatemi un mi piace per Telepass, vi prego, ma è bellissimo sto soprannome. Morirà dopo due episodi, me lo sento. Io invece sto pensando, ragazzi, a cosa di ignorante per Ivi, perché Ivi, dai, è un cane, un cane, una volpe. È una volpe, un cane. È un cane. Un cane, a te, cioè, ci sono i biologi che si stanno rivoltando nella tomba, secondo me. Lo chiamavano esperto di biologia, proprio. Il paleontologo. È lui, sei reincarnato. Comunque, Luke, io sto visitando la torre, non so te. Eh, aspetta, Gio, prima o poi faccio qualche chilometro e arrivo, un attimo. Bravo, va bene così. Un attimo. Da Torino con furore. Allora, fammi conto da Gio, io ho qualche pietra oppure mi devo buttare dalla finestra. Allora, c'è una pietra dura che non mi serve a niente, la pietra dura. Beh, minchia, ti evolve tutti i Ivi, la pietra dura, è proprio sì. Gio, pietra idica, che dici, lo faccio adesso oppure aspetto? Vai, 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 fallo. C'ho anche il fossile cani, però non penso che sia... Beh, sicura, io glielo tiri in testa e voglio vedere come si evolve. Dai, Gio, pietra idica sia. Vai, vai. Pietra idica sia, vediamo. Vai, vai, vai. Certo che se si bugga tutto, ragazzi, io veramente mollo la segna. No, vabbè, Ivi c'avrà un fottio di evoluzioni diverse, probabilmente. Voglio... No, è Porygon 2, ragazzi, che schifo. Beh, no, cioè, sì, però... Cioè, beh, c'è di peggio nella vita, Luke. Amato proprio, amato in bocca. No! Ok. No, ok, così. Vediamo un po'. Porygon 2. Ho paura. Difesa 18, un altro, che si iscritta come un muro in Minecraft, ragazzi, come diventarsi. Beh, calci in volo, sono raggi, chips, vabbè. C'è una situazione un po' problematica qua. Dove sei, prima di tutto? Sono all'interno della torre. No, Change, è morto, Change, brutto colpo! Chi è, quindi, Scorpio, era. Benissimo, benissimo. Perdiamo sempre poche, non mi dico. Cazzo, ma ho beccato un Roserade con Dinami Pugno. E ha pure colpito con Dinami Pugno. Madonna, perché non è molto... Ma Dio Cristo! Madonna, assurdo. Dinami Pugno è proprio uno di quelle mosse che non è mai. Dai, ma abbiamo perso due Pokémon, ma che schifo. Eh, lo so, lo so. Quindi vado alla posizione del Top 5? Bene. Vabbè, perlomeno sono le coppie scarse. Cioè, purtroppo sono quelle coppie che entrano in squadra e non possono fare... Messaggio bolla, Dio. Eh, possiamo fare una cattura a Femminia. C'è un tipo delle rovine di fianco a Femminia, quindi anche so facciamo un percorso. Potremmo andare alle rovine e catturare quelli che dovrebbero essere gli on-on, raga. Sì, e poi sopra c'è un percorso nuovo da sopra Femminia, quindi ci può stare. Oh minchia, Blis, lì ti prego, drogami di punti esperienza. Ah, quindi di Puppe, nazzo, praticamente. Eh sì, io però sono all'interno della torre, mi sto facendo i big giri, Luke. Non so te. Ah, no, io invece sono uscito, però... ...di cattiveria, sono andato via. Che si è visto, si è visto. No, tra un attimo bestemmio, prendilo! Sì, ma ti ho bestemmio. Ma è sprit, figa! Oddio. Allora, Gioio, io mi butto... Allora, aspetta un secondo, che sto impazzendo anch'io. Allora, sto oltre a Femminia. Ma mi butto anch'io, però. Ok, quindi abbiamo ancora due catture, le rovine di Femminia e 210. Allora, ce la possiamo fare a farne due ricatture. Sì. Ovvio. Allora, aspetta che io sono ancora incastrato nella situa, cioè... ...le Vito Roccia, la tua madre mignota, eh? Nel marmo delle rovine. Boh, Gioioio, le rovine di Femminia io mi butto, faccio una bella cattura e... ...non so, ci provo. Dragobolide. E pita, sono ricco. Sono ricco, ragazzi. Comunque più della nostra partner. Sì, vabbè, quello ci vuole poco. Poi qua non c'è niente. Quello ci vuole poco. Raga, io devo fare più spesso le solo lingue con lui, perché poi mi migliora la giornata, cazzo. È il disagio. Stiamo prendendo poco e non continuamente, poi... Allora, no, Luke, io non proseguo perché non ho rimedi. Raga, il resto lo farò fuori parte. Tanto, qua dentro, comunque, dobbiamo andarci, Luke, perché ci danno forza. Te lo dico. Non mi ricordo, no, tappo. Ci danno forza, fidati. Però vabbè, raga, la cattura l'abbiamo fatta e io c'ho paura a proseguire, visto che ho già perso un po' con qua, mi avevo dimenticato uno strumento. Ah, cavolo, io non riesco a trovare nessuno, sto giù. È zero. È Luke. Io ho trovato... Io ho trovato prima il messaggio bolla e poi il messaggio fiamma. Ora dimmi se non devo bestemmiare. Poi tu vuoi tipo il mess... Mamma mia. Cioè, questi messaggi sono più che inutili. Molto inutili, direi. Fanno schifo. Non ho trovato un messaggio... Chi cazzo è? Oddio, Barry, no! Ah, è Barry, è Barry, sì. Non trovo detto, c'è Barry che... Non rompe il cazzo, no, non rompe il cazzo. No, 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 non ti fa niente. Fondamentale, fondamentale. Ah, sì, levati dalle palle, grazie. Ma quindi, Luke, non ci sono alle rovine? Eh, no, sono un po' difficile a trovare, se non ricordo male. Però con un po' di impegno li trovo sicuramente, Gios. Spero almeno. Ma sei sicuro, scusa? Questo qua ha due itmo lì. Come è possibile che hanno vincito così? Cioè, veramente, non... Ma Luke, ma sei sicuro? Ma io non sono tanto convinto di sta cosa. Io non li trovo molto easy. No, mi ricordo... Ma tu li hai trovati già? No, io sono per la femminia, con calma. Per la madonna. Aspetta che mi sta uccidendo questo tizio. Io sono abbastanza messo male. Potrei impazzire, potrei muovere la serie. No, 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 Luke. Sì, ma continua. Don't molling the serie, please. Allora, ecco perché non mi faceva vincere. Era God come casolato. Ah, hai capito. Scusami, Luke, ma siamo a otto morti in dodici episodi? Eh, 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 sì. Sì. Allora, aspetta che guardo un attimo il mio telepass che entra in squadra subito, prima di subito, nel prossimo episodio. Dai, buono. Un gioco fanno in autostrada e metto il telepass che vanno dentro. Buono, mi piace. Raga, telepass è promosso. Cattura. Cattura. No, dai, ma c'hai meco? No, ma zio. Dai, voglio più. Buono, buono, bello. Bello c'hai meco. Allora, aspetta, sono entrato anch'io nelle rovine, nel mentre. Allora. C'hai meco, una campana praticamente. Tra l'altro qua deve essere pieno zeppo di, tipo, strumenti. D'allenatoio no. Strumenti sì, ce ne sono. Più che altro strumenti. Esatto, esatto. Etere. Oh, buono l'etere. Oh, finalmente. Io posso solamente a discottature e robe del genere, quindi. Poco, poca roba, Gio. Allora. Aspetta, senti, ma il percorso per fare tutto sto bordello qua, scusami, non... In alto a destra, in basso a sinistra, sua madre è camionista. Vabbè, basta che ti metti a ritrovare un po' di Pokémon, se ritrovi, e poi esci. Ok, sì, la visitiamo poi fuori parte. Ho preso, c'hai meco, sono Dio. Del resto, raga, è una Nazlock alla fine, quindi non siamo qua. Oh, poca, cattura, ti prego qualcosa di buono. Altaria? Eh beh. Eh beh, dai, comincia a trovare Pokémon buoni, dai. Sì, ma io c'ho la Madonna nel cervello. Cioè, non ho curato i Pokémon. Ok. Gio, baci piano, baci piano, veramente. Oddio, c'hai meco. Oddio, mi ha fatto veramente curatore, stiamo scherzando. C'hai meco, c'hai meco, ragazzi, è una campana. Cioè, praticamente lo suoni, ho matto. No, l'ho avvelenato, io lo sapevo che andava a finire così. Prendilo, dai, prendilo. No, Luke, mi uccido. Mi uccido. Mi uccido. Oh, se non ce la fai uccidilo, piuttosto, veramente. Se non ce la fai uccidilo. Prendi qualcosa. Aspetta, 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 che devo stare attento, ma. Sì. Ok, allora ho un'opportunità per prenderlo. Ok, ok. Oddio, so male, l'ho preso. Oh. Oddio, l'ho preso. Aspetta, Luke, il comeback di SoundCloud dalla scorsa Soulink. Dio, è vero, Soulink era un mio zaffio. SoundCloud, uno dei più belli soprannomi che io abbia mai dato in vita mia. Dopo telepasso ci rialziamo, Luke. No, è vero. Cioè, abbiamo fatto delle catture quest'oggi. Sì, ci sta, a parte c'hai meco. No, vabbè, dai, dai, non è così brutto. Fu così che nell'episodio dopo. Oh, cazzo. Oddio. E' vero, cazzo, è avvelenato. Dimmi che ci ho. No, zio, 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 zio. Dora, non li possiamo, Gio, fai qualcosa. Ok, e non ho pozioni, però c'è una bacca. Ok. Ci ho visto, ci ho visto veramente nero, giuro. Allora, raga, poi fuori parte esplorere... Eh, ho perso uno strumento, eh. Fuori parte, raga, esploreremo un po' meglio la zona. Prenderemo degli strumenti, vi informeremo su ciò che otterremo, vero, Luke? Ovvio, ovvio. Quello lo faremo per forza. Eh, già. Vai, vai. Allora, eh, vogliamo fare la cattura anche sopra? Sì, possiamo tranquillamente provarci. Così almeno dal prossimo episodio magari ripartiamo con sei Pokémon se ci va tutto bene. Non gufo, eh. Uh, mi piace sto Altaria, Luke. Parte per curardore che, cioè, tipo, vabbè. Cos'è? È decente, quantomeno, è decente. Eh, allora, come mosse no, ma ci si può lavorare, secondo me. Ci si può lavorare. E io devo... Io devo cercare di arrivare fuori senza... Perché c'è un po' che uno avvelenati, in poche parole, quindi... Non hai bacche. Eh, vabbè, ma ce la faccio. Tanto c'ho le sue posioni. Ok, ok, l'importante è quello. Allora, io ho curato i Pokémon. Abbiamo potenzialmente, ragazzi, dall'inizio della serie siamo arrivati al dodicesimo episodio. Se, nel prossimo, tra l'altro, io vorrei fare, Luke, un inno a Grace. Cioè, al mio paragli che dall'inizio, dal secondo episodio, è l'unico che è rimasto vivo. L'unico. Allora, c'è un piccolo problema. Non riesco a uscire. Mi sono perso, raga. Geniale, questo uomo, veramente. Passate dal suo canale e lasciate dislike. Adesso do il mio... Uh, ci sono quattro poche voi qua, però. Oddio, sei arrivato alla fine. Scaccia, scaccia bruma, che non è randomizzato, ovviamente. Caramella rara! What? Random. How to allenare i tuoi Pokémon? Repellente. Roccia di re. Vabbè, vabbè, sono contento, raga. Voi gli strumenti. Poi, raga, andrò a prenderli anch'io, quelli. Eh, Luke. Abbiamo intenzione di fare la cattura? Ovviamente, sì. Sempre che io riesca a cacciare i tuoi Pokémon. A uscire. Perfetto. Allora, io sto facendo la cattura, quindi, attenzione. Chiudo gli occhi dal verso, Luke. Vai, Joe. Fai qualcosa. Agisci. OLECTABUZ! No, Tentaclel. Tentaclel? O Tentaclel, l'ansia, mamma mia. Ah, scusa. Scusa per la pronuncia. Sì, infatti la pronuncia ha detto... Mi è stato fatto un po' stare, ho fatto ripetuta per capire se effettivamente era quella vera. Cavolo, mi sembrava l'ECTABUZ dal verso, ti giuro. Sono andato a colpo sicuro, ci sono rimasto malissimo. Oh my god, ragazzi, datemi una bussola, mandatemela via mail. Ti mando il mio telepass, Luke, che fa con bussola. Oh, oddio, l'uscita, raga, vedo la luce. La luce in fondo al tunnel, l'ho vista, l'ho vista. Luke, smettila con le droghe per piacere, perché non va bene. Durante la Sonic, ragazzi, ci piace abusare. No, 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 ti ha ucciso. No, 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 mi sono fatto solo la cacca addosso. No, no! Ok. Che infame mi ha fatto in seguimento sto stronzo, l'ho preso. Ah, mamma mia, mi hai fatto venire un colpo, già, serio? Pokemon Medusa, come cavolo lo chiamo io un Tentacruel. Pokemon. Allora, quindi devo depositare? Che che dopo che era morto, già? Nessuno? Non era morto nessuno, adesso. No, 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 tranquillo. Luke, ormai c'è l'ormone per cui ogni volta che vuoi lo chiedere. Ho parlato una scoreggia, Luke, che non hai idea. Ma vai, tanto non arriverà qui, non c'è quel collegamento olfattivo, potremmo chiamarlo. Sì, e per fortuna non ci sarà mai, probabilmente, quindi... Non so come chiamarlo questo, Medusa, Medusa, Medusa... 210, e Poliwag, e Poliwag. Oh, zio, John Frog, che si evolve, è incredibile. Oddio, piango, ragazzi. Sì, una pietra idrica. Ah, no, tanto poi si evolve di livello, quindi sciallano, scherzavo. Sì, ho messo, mi hai fatto prendere un colpo, come un secondo detto. Oddio, quello cazzo ho fatto. È vero, zio, non so come chiamare Tentaclou, però. Eh, Medusa, Medusa. Eh, cioè, dice io, Medusa, però l'altro non mi viene in mente nient'altro. Lo chiamo... Che poi, comunque, non hanno nickname, sono fasulli, ormai. Lo chiamo Stone. John, John, prima me che ho catturato, ragazzi. Preso? Oddio, raga. Dal prossimo episodio avremo sei coppie. Il problema è gioca e femmina, quindi come la chiamo John, John Frog. Cioè, non c'è una versione femminile per John Frog. Giovanna Rospo, la chiami, non lo so. No, vabbè, dai. Quindi... Jonah! Oddio, raga, mi ha fatto venire un video. La chiamo John più la finale. Jonah, che sarebbe Jonah in italiano. La droga. La droga. Probabilmente mi picchierete, ma adesso mi direte che sono un cretino e avete la John. Infame. Disiscritti, dislike. Quindi, già abbiamo detto, Jonah, Frog. Luke, io sto piangendo, abbiamo veramente sei Pokémon in team e ne abbiamo persi due in questo episodio, vorrei far notare. Sì, quindi, ragazzi, abbiamo fatto la magia, perché catturare tutti i Pokémon disponibili era... Incredibile. ...difficio, ma ce l'abbiamo fatto. Abbiamo finito addirittura in surplus, quasi. Per oggi direi che basta. Per oggi basta, per oggi basta, assolutamente. Uno scarico. Ragazzi, io direi che questo episodio può concludersi qua. Nel prossimo avremo, cazzo, sei Pokémon. Mi sembra esatto, proprio quello. Ok. Non si può andare avanti così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi invito a lasciare un mi piace, un commento in iscrizione al canale. Anzi, noi lo speriamo. Mi raccomando, passate dal canale del Roche25 per, comunque, seguire la serie. Ogni episodio che esce, premete la campanella, passate dai social, Luke, qualcos'altro. Ma direi che ho detto tutto. Perfettamente, ragazzi, questo uomo è la perfezione. Quindi andiamo avanti. E quindi, signori, noi ci becchiamo in un prossimo video, cazzo. Bye, bye.